Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, all'età di 14 anni, era studentessa del liceo linguistico inserito nel liceo ginnasio GB Brocchi di Bassano del Grappa, è stata notata da un fotografo del suo comune e, nonostante il padre geloso che ne limita e controlla le uscite, inizia a lavorare localmente come fotomodella soprattutto per tutte da sci, 3, lavora anche da cameriera e addetta alle pulizie, 4, 5, ha 17 anni, in discoteca pomeridiana, con alcune amiche, si imbatte casualmente nelle selezioni per Miss Italia 1997, spinta dalle amiche vi partecipa, e, dopo altre selezioni, viene insignita della fascia di ragazza Sask Top Model, Domani Veneto, con la quale partecipa alla fase finale trasmessa dalla televisione a settembre, su Rai 1. La coppia, pure avendo due figli e una relazione stabile e duratura, non ha fino a questo momento sentito l'esigenza di convolare a nozze. Silvia Tofanin e Pier Silvio Berlusconi sono insieme da più di 20 anni, a quanto sembra hanno scelto di vivere la loro lunga relazione sentimentale senza giurarsi amore eterno. Eppure da anni si vocifera di un matrimonio imminente. Diva e donna aveva titolato, sposa Silvia, l'ha promesso a papà. I ben informati dell'ambiente televisivo Mediaset, sono a conoscenza della promessa del vicepresidente di Mediaset al padre, scomparso lo scorso giugno. TV Blog, Pier Silvio Berlusconi ed Endemol Shine Italy, società produttrice del Grande Fratello, avrebbero pensato a Brigitta e Benedicta Boccoli. Le due, provinate per la nuova edizione del reality show, avrebbero riscosso solo consensi positivi. Le sorelle, famose al pubblico del piccolo schermo, potrebbero dunque essere due valide concorrenti del GF e il matrimonio quando avverrà.